Il diritto all'immagine è un fascio di diritti tutelato sia da alcuni articoli del codice civile, come i diritti della personalità, sia da alcuni articoli della legge sul diritto d'autore nella parte relativa ai diritti connessi e attengono ai diritti del soggetto che è ritratto in un'immagine qualsiasi, quindi non solo fotografica, ma anche il ritratto fatto proprio a mano, come si faceva una volta. Questo soggetto in quanto riconoscibile nell'immagine ha un diritto su questa immagine e questo diritto può essere poi, secondo gli articoli della legge sul diritto d'autore che trattano questo diritto connesso, anche essere ceduto in cambio di una remunerazione, quindi ci sono dei soggetti che proprio di lavoro fanno questo tipo di cessione, pensiamo ai fotomodelli, le fotomodelle in generale i testimonial della pubblicità, soggetti il cui viso è molto riconoscibile al pubblico e che quindi cedono questo diritto per fare pubblicità in cambio di una remunerazione. Grazie. 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 Grazie.